Questo è uno spettro audio, questi sono sottotitoli automatici e questi testi animati. Sono tre funzioni di un semplicissimo programma online che ho appena scovato e di cui ti parlo in questo episodio. Ben ritrovati immaginativi. I servizi online per creare video nascono come funghi e spesso non durano più di una stagione. In un precedente episodio ti ho già parlato di alcune piattaforme utili per creare video con foto e musica. Se segui questo link li trovi tutti. Il servizio online di cui ti parlo oggi invece è molto diverso. L'ho trovato perché cercavo qualcosa che permettesse di visualizzare la voce. Sono quegli effetti che sono molto utili a chi produce podcast e magari alla necessità di ripubblicare i propri podcast su social molto visivi. Come ad esempio Facebook o Instagram. Chi si rivolge a me, i miei clienti, spesso rimane deluso quando spiego loro che questi effetti non si possono creare nei programmi di video editing tradizionali. Tecnicamente infatti non si tratta di montaggio video, ma sono effetti di motion graphic design, se vogliamo essere un pochino più specifici. Il programma invece di oggi rende il tutto semplicissimo. Si chiama Headliner ed è specializzato nel riconoscimento automatico della voce e nella visualizzazione audio. Premetto che il servizio ha una versione gratuita, ma è ovviamente limitata nelle opzioni e condizionata all'inserimento del logo nella versione definitiva. Headliner è una piattaforma online e il link te lo lascio qua sotto in descrizione. Inizio con la creazione di uno spettro audio e non lasciarti spaventare dal nome, non è altro che questo effetto qua davanti che avrai visto centinaia di volte. Può variare nella forma, nei colori, nelle dimensioni, ma in sostanza è un effetto in grafica che si accorda con l'intensità della nostra voce. Quindi vai sulla piattaforma e registrati come ogni servizio online e clicca Audiogram Wizard. La differenza tra Audiogram Wizard e Full Episode è che nel primo la durata del tuo video può essere al massimo 10 minuti, mentre invece nell'altro la durata massimo è di 2 ore, ma in Full Episode non ti permette di inserire la trascrizione automatica della tua voce. Quindi fai i tuoi calcoli. Per iniziare clicchi lì sopra e in teoria potresti creare il tuo filmato direttamente dall'indirizzo internet del tuo podcast. In pratica però sono pochissime le piattaforme podcast con cui Headliner ha stretto degli accordi e ad esempio Spreaker, che viene utilizzato moltissimo in Italia, non ha degli accordi con la piattaforma. Quindi semplicemente carichi da lì il file audio del tuo podcast. Lì sotto, in fondo, selezioni la lingua del podcast per creare la trascrizione automatica. La trascrizione funziona bene ma non è perfetta, quindi personalmente io non mi fiderei a pubblicarla esattamente così com'è. Il secondo passaggio è che scegli il formato video di esportazione, quindi orizzontale, quadrato oppure verticale e poi arrivi finalmente nella finestra di editing. Lì puoi selezionare l'immagine che preferisci come sfondo. Dal menu a tendina selezioni il tipo di audiogramma che vuoi mostrare e lì sotto puoi anche selezionare il colore che preferisci dall'intera palette di colori per il web e così la puoi accordare con la tua immagine di brand. In ogni caso, in pochissimi minuti, hai creato un video che puoi pubblicare sui tuoi social e visualizzare almeno 10 minuti di podcast. Sarebbe stato bello provare la funzione podcast auto video ma è disponibile solo per alcune piattaforme. Ti mostro invece i modelli che sono utili per creare un video con il tuo podcast o anche con delle immagini e della musica. I modelli non sono tantissimi ma in realtà sono semplicemente delle strutture che ti permettono di prendere confidenza con l'editor e poi con l'editor puoi andare a modificare tutti i parametri consentiti. Clicca un modello, questa è la schermata che ti si presenta davanti puoi andare a sostituire le immagini preimpostate ovviamente con le tue e nei testi puoi andare sia a cambiare il testo ma puoi anche andare a cambiare colori, font e dimensione esattamente come puoi fare dopo se entri direttamente nell'editor e hai e ti trovi davanti una schermata vuota. Nell'ultima traccia in basso puoi andare a inserire o una traccia musicale oppure l'audio del tuo podcast. Sia partendo dai modelli che partendo dall'editor hai la possibilità di creare un video inserendo il tuo podcast o la musica che preferisci personalizzare i tuoi testi anche con animazioni, colori, font e dimensione e poi inserire le immagini che siano tue oppure la funzione particolare di Headliner è che ti permette di cercare le immagini direttamente sul web attraverso delle parole chiave e inserirle direttamente nel progetto. Per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini presta molta attenzione primo perché Headliner nella sua versione gratuita ti rimanda una ricerca generica sul web e quindi va a pescare immagini sia dal web, da Google sia da piattaforme di immagini in stock una volta però che hai trovato le immagini devi andare a verificare l'effettiva possibilità di utilizzo di quelle immagini soprattutto se stai creando un progetto con fini commerciali devi assicurarti quindi, devi verificare quindi i copyright e la disponibilità dell'autore nel fare utilizzare queste immagini secondo, dal mio punto di vista l'utilizzo di immagini non tue delle immagini quindi di stock reperite in rete sono comunque un'occasione persa e anche un'arma a doppio taglio da un lato è vero che ti permette di creare progetti e video alla velocità della luce dall'altro rischi di perdere un qualcosa perché per ricercare, per dare al tuo video, al tuo progetto una patita di professionalità in realtà rischi di perdere qualcosa di autentico e di vero che è quello che poi le persone ricercano nei video social e nei video sul web una volta che hai creato il tuo video con un podcast e la musica, le foto, il video, i testi, le animazioni se il tuo desiderio è quello di creare un canale YouTube ricordati che ho un nuovissimo freebie apposta per te si tratta di una sequenza di 7 mail che ti aiuta a gettare le basi per un canale YouTube che si faccia ritrovare all'interno di quel vastissimo e interessantissimo mare che è il web e ora metti in immagine la tua storia e crea la visibilità che meriti